ciao a tutti oggi prepareremo il latte di unicorno il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa gli ingredienti sono farina di cocco spirulina in polvere acqua zenzero fresco sbucciato succo di limone miele bacca di vaniglia o essenza di vaniglia stelline e codette colorate di zucchero diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la farina di cocco e l'acqua e azioniamo il bimbi per 10 minuti a 100 gradi velocità 3 adesso frulleremo il composto per 30 secondi a velocità 10 filtriamo il latte con un colino e teniamolo da parte teniamo momentaneamente da parte il latte di cocco abbiamo sciacquato il boccale adesso mettiamo all'interno lo zenzero il succo di limone l'essenza di vaniglia e il miele chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 5 finiamo sul fondo del boccale e azioniamo il bimbi per altri 10 secondi a velocità 10 finiamo sempre sul fondo del boccale aggiungiamo l'alga spirulina e il latte di cocco chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 40 secondi a velocità 8 il latte di unicorno è pronto serviamolo subito decorandolo con le stelline e le godette di zucchero colorato latte di unicorno è una bevanda vegana energizzante ha proprietà antiossidante e anti infiammatorie e ricca di vitamina b di minerali e proteine ed è consigliato come ricostituente grazie e alla prossima ricetta grazie 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 grazie